amici di mortosport.com ciao a tutti siamo all'ultima qualifica del mondiale 2023 gran premio di abu dhabi chi se lo poteva immaginare che ci fosse la quarta pole position di max verstappen la 32esima che eguaglia le partenze al palo di nigel masel tutto previsto il colpo di scena è una ferrari in seria difficoltà su una pista che storicamente non è mai piaciuta la rossa si inventa attraverso uno straordinario charles clerk un giro molto molto veloce che porta il monegasco in prima fila a te matteo ciao franco innanzitutto e tutti gli amici di motorsport sì lo dici bene se l'ha inventato è il giro leclerc perché la ferrari vista ad abu dhabi non era delle più delle più brillanti e anche l'eliminazione di science vero per carità che potrebbe aver perso un pochettino con una macchina del traffico ma insomma denotano che non c'era molto molta prestazione nella macchina eppure leclerc il giro l'ha fatto e lo possiamo vedere molto bene anche dai dati telemetrici perché si vedono delle caratteristiche che sono abbastanza consuete ormai nella guida di leclerc la staccata è un grandissimo staccatore franco di quelli davvero da premio perché quello che fa in curva 1 e quello che poi fa anche in curva 5 è bello evidente cioè è in grado di frenare più tardi soprattutto curva 5 di quello che fa max verstappen tu diresti ok poi accelera dopo dopo c'è un lungo rettilineo no frena dopo e accelera prima del suo compagno di squadra lui è molto bravo sempre a minimizzare quelli che vengono chiamati tempi morti cioè quel momento in cui non freni non acceleri lui quello spazio lì è sempre molto corto o frena o accelera lui e quindi quando addirittura non toglie completamente il gas dell'acceleratore e lo vediamo a curva 9 a curva 12 quindi quando decide di essere veramente fuori classe è capace di farci vedere di che cosa è capace assolutamente poi ho la sensazione che proprio sia uno dei migliori in assoluto attualmente a usare tutto il grip che ha a disposizione non troppo e non meno di quello che hanno e quindi riesce proprio a massimizzare sempre tutto per contro è anche una ferrari che se tu guardi questi dati mal mal non si comportano almeno nelle sue mani perché comunque il rettilineo tiene assolutamente testa alla red bull soprattutto nella parte centrale franco del rettilineo quindi erogazione della 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 parte elettrica no che 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 è molto buona tu lo dici spesso l'hai raccontato spesso ehm che che da quando è arrivata l'ultima no come dire versione della parte ibrida si è visto un bel miglioramento qua si vede bene eh si vede molto colpisce molto eh se guardi Matteo il terzo settore dove eh addirittura eh Charles è stato più veloce di Max è vero che Max ha fatto un'imperfezione quindi non ha il suo giro perfetto però è anche vero che è riuscito a mantenere la gomma competitiva fino all'ultima curva verissimo anche perché storicamente l'hai detto tu in apertura di questo video noi raccontiamo di una ferrari buona nel primo settore non male nel secondo ma tutti gli anni ti ricordi arriviamo poi a raccontare terzo settore disastroso arrivano con over eating sul posteriore e non ne cavano più nulla no invece eh bisogna dare atto che questa volta sono arrivati nel terzo settore con tanta vita sulle gomme perché lo si vede curva curva 12 curva 12 sì quella in cui entri nell'hotel per intenderci più velocità centro curva e poi anche come utilizza l'acceleratore in quel tratto molto molto lento da cittadino quasi quel tratto significativo del fatto che c'è grip c'è aderenza c'è vita sulle gomme ultima curva addirittura dove dove Verstappen la sbaglia perde un po' il posteriore l'eclera è perfetto più velocità centro curva accelera stacca più tardi di Verstappen insomma una una ferrari che comunque si è ben comportata e lui poi l'ha la massimizzata l'ha esaltata e troviamo l'aggettivo che vogliamo Lasciami solo aggiungere una cosa nell'analisi eh la McLaren ha buttato via la possibilità di provare a pungere la Red Bull di Max Verstappen con gli errori sia di Piastri che di Lando Norris o secondo te non c'era alcuna speranza per me eh sai coi sei coi mai difficile però non ci arrivava lontano secondo me a dar fastidio eh eh più Norris per me che Piastri eh nel senso che Norris era davvero molto incisivo fino a quella sbavatura molto grossa che ha effettuato però attenzione potrebbe anche essere arrivata franco quella sbavatura perché nel terzo settore magari pagavano un po' di temperatura loro sui pneumatici perché entrambe le McLaren hanno avuto quella tendenza quindi siccome la ricordiamolo diamo la chiave di lettura eh la McLaren è forse quella in questo momento con questa MCL 60 ultima evoluzione quella che più rapidamente riesce a portare in temperatura le gomme quindi subito un buon warm up e poi magari lo paghi alla fine del giro come giustamente stavi dicendo sì perché poi eh verissimo poi Abu Dhabi lo diciamo è sempre un circuito da coperta corta cioè il se chiedi troppo alla gomma in un settore è facile che poi non tu non abbia più il rendimento nell'altra quindi la difficoltà sempre è eh avere una media buona su tutti i tre settori la McLaren è ottima nel primo e nel secondo soprattutto nel primo poi effettivamente nel terzo mi viene da pensare che che il buono era già un po' andato. Se dobbiamo dare uno sguardo alla gara eh McLaren eh che può inserirsi nella battaglia eh Ferrari che è lì e ci proverà a stare o il solito Max che mette la prima e tanti saluti e grazie. Tu Max non 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 farei troppo conto ecco eh perché per quello visto poi in gara loro tendono sempre ad avere addirittura un extra vantaggio però McLaren, Ferrari eh io ci metto anche Russell sai per la gara eh Franco perché eh loro loro eh pagano tanto in rettilineo ti ho mandato anche un grafico eh relativo proprio alla velocità no alle varie velocità dei dei competitor. Loro hanno questo deficit che si portano avanti da un po' eh relativo alla alla velocità che esprimono in rettilineo per darti un dato 331 Perez 329 Verstappen quindi similissimo 328 Leclerc per trovare Russell bisogna andare a 324 cioè il penultimo di chi ha effettuato la Q3 ecco però poi loro in gara non sono malvagi anzi spesso si si esaltano quindi io ci metto anche loro nel nel triello McLaren Ferrari e Mercedes. Attenzione quindi il nostro Matteo Bobbi eh ci sta dicendo che la partita per il secondo posto del Mondiale Costruttori non ha un battacchio che gira a favore della Ferrari ma è tutto da vedere e conterà moltissimo quanto riusciranno a venire su da dietro sia Lewis Hamilton che è undicesimo sia Carlos Sainz che è letteralmente disperso. Assolutamente sì penso che loro due possano essere no a largo della bilancia gli aghi della bilancia ulteriori perché mentre Russell e e e e le Claire sono molto vicini eh come come schieramento di partenza e mentre gli altri due invece sono un po' più distanziati quindi bisognerà vedere quello ma è il l'interesse è lì no Franco è proprio nel duello del secondo posto quindi ce lo godiamo. Ci ho portato a posto. Allora amici motosport.com siamo arrivati in fondo cliccate la campanella è l'ultima volta che ve lo dico quest'anno eh per iscrivervi al canale di motosport.com e ricevere le informazioni dei prossimi video e commentate qui sotto voi cosa ne pensate? Chi se la gioca? Ferrari? Mercedes? O ci sarà il solito dominio da record di Max Verstappen? Ciao Matteo grazie. Ciao Franco grazie a te grazie per tutto l'anno e tutti gli amici che ci hanno sempre seguito.